Cari amici, buona giornata. Continuiamo con la lettura del Libro degli Atti e degli Apostoli. Oggi ci viene proposto il testo di Atti 4.23.31. In quei giorni, rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto i loro capi, quanto aveva detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo, Signore, Tu che hai creato il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che in esse si trovano, Tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro Padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli di Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù che Tu hai consacrato per compiere ciò che la Tua mano e la Tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai Tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la Tua parola, stendendo la Tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del Tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui si erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Pietro e Giovanni erano andati al Tempio verso l'età del pomeriggio, avevano guarito uno storpio di 40 anni dalla nascita, storpio dalla nascita, poi Pietro aveva fatto un discorso alla folla, poi erano stati messi in prigione, avevano passato la notte e al mattino erano stati giudicati dal sinedrio, dai capi e alla fine erano stati rilasciati. Che cosa fanno Pietro e Giovanni appena vengono rilasciati? Vanno dai loro fratelli, probabilmente con il termine fratelli qui non si indica soltanto gli altri undici apostoli, ma la comunità intera e c'erano dunque dei luoghi, una casa dove i cristiani vivono la loro identità profonda, cioè l'essere fratelli e questa identità è determinata dall'aver ricevuto il dono dello Spirito Santo e il battesimo e questa identità viene vissuta attraverso l'incontro. Sappiamo che c'erano appunto dei luoghi, negli Atti degli Apostoli si è parlato della stanza superiore dove gli Apostoli erano riuniti in preghiera, si era parlato anche di una sala appunto dove ricevono il dono dello Spirito Santo, poi si era detto anche che erano assidui dell'insegnamento e quindi si incontravano. È molto importante sottolineare questo desiderio di incontro della comunità. Nella lettera agli ebrei i cristiani saranno rimproverati, dice la lettera fratelli, non disortiamo le nostre riunioni come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortiamoci a vicenda e decisiva alla compagnia degli altri credenti. E nella riunione Pietro e Giovanni riferiscono ciò che era accaduto. È lo stile dei missionari, anche Paolo farà così. Quando tornerà dalla missione si incontrerà con i fratelli e riferirà, racconterà ciò che attraverso la sua parola e la sua azione Dio compie. Come reagisce la comunità? Quando diranno questo tutti insieme innalzarono la loro voce. Dunque non solo gli Apostoli prendono parte alla preghiera che adesso si innalza al Signore, ma è una preghiera corale, fatta da tutti. Questa preghiera è il modo dei credenti di reagire alle notizie e ai fatti che accadono. E che cosa vuol dire pregare? Innanzitutto la preghiera si rivolge al padrone, a colui che ha creato il cielo, la terra, il mare, tutte le cose e tutte le cose che in essi si trovano. Ecco questo è il destinatario della preghiera, il Dio creatore. Al Dio creatore si aggiunge poi il ricordo delle scritture. Evidentemente i primi cristiani quando si riferiscono alle scritture non si riferiscono al Vangelo o alle lette di San Paolo, che non c'erano, ma si riferiscono a quelle che noi chiamiamo l'Antico Testamento. Si riferiscono a Davide, considerato l'autore di tutti i salmi, e lo chiamano nostro padre Davide. Quindi cristiani ebrei considerano appunto Davide come tutte le scritture, le loro scritture, i loro padri. Che cosa aveva detto Davide nel Salmo II? Aveva ricordato che le nazioni, i popoli, i re, i principi hanno agito contro il consacrato, si sono alleati insieme contro il consacrato, il Cristo di Dio. Il Salmo ha uno sguardo universale, abbraccia tutta la terra, tutti i capi. La comunità, leggendo questo Salmo, attualizza la parola della scrittura nella situazione concreta, restringe l'obiettivo e riconosce nelle nazioni, nei capi, nei principi, Erode e Pilato, la nazione, i pagani e gli ebrei, che si sono alleati insieme contro Gesù. Letta in questa luce, la passione di Gesù diventa non espressione di poteri nemici, come appunto quelli di Erode o di Pilato, ma diventa la rivelazione della potenza della mano di Dio, che ha deciso questo. Ciò è avvenuto per opera della mano del Signore, di Dio, che aveva deciso questo, che avvenisse questo. La scrittura, dunque, attualizzata nella storia concreta che la comunità vive, aiuta la comunità a leggere la situazione di persecuzione con gli occhi di Dio e quindi a non temere. San Pietro dirà ai suoi cristiani, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiato in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Addirittura l'autore dell'Apocalisse, San Giovanni, dice che a orecchi ascolti, colui che deve andare in prigionia vado in prigionia. Chi deve essere ucciso di spada, di spada si è ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi. Dunque, alla luce delle scritture, non stupiamoci se incontriamo opposizione. Qualche volta i buoni, anche le persone sensibili, trovano strano che ci sia qualcuno che si oppone, anche all'interno della comunità. Delisioni, commenti cattivi, non stupiamoci. Fa parte della realtà e anche dell'esperienza cristiana trovare opposizione, ripeto qualche volta anche all'interno stesso della comunità. Come reagisce la comunità dei fratelli dopo aver riconosciuto che la persecuzione è attuale e che non può essere evitata? Non chiede di esserne liberati, ma chiede due doni. Il primo dono è la franchezza. Bellissima questa richiesta. Cioè chiedono la forza di parlare liberamente, di non aver paura di esprimere il proprio pensiero. Chiediamo anche noi che nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità ci sia questa libertà di parlare, una franchezza, di esprimere la verità, di non nasconderci nelle mezze frasi, nella maldicenza, nelle parole nascoste, ma che ci sia il coraggio della verità. È un dono da chiedere per noi e per i nostri fratelli. L'altro dono che viene chiesto è quello di operare guarigioni, segni e prodigi, cioè di compiere dei segni concreti che mostrino che la fede del nome di Gesù è potente ed è potente per il bene, è a favore degli uomini. La fede nella risurrezione è un bene per tutta la società e noi credenti dobbiamo mostrare come la fede in Cristo diventa un bene per tutti. La discesa dello Spirito Santo, il segno esterno è una scossa di terremoto, indica che la preghiera è stata accolta. Gesù stesso aveva detto il padre forse non darà lo spirito a chi glielo chiede e con questo spirito dice il testo proclamavano la parola di Dio con franchezza.